Una tragica incidente ha scosso le strade di Cassino oggi, 9 settembre, quando una giovane coppia di neosposi, a bordo di una motocicletta, è rimasta coinvolta in una collisione con un'auto lungo la strada che collega Cassino a Formia. Questo incidente ha portato alla perdita della vita della giovane moglie, Graziella Parente, di 31 anni, originaria di Coreno Ausonio, mentre suo marito, Francesco, di 33 anni, anche egli di Ausonia, si trova in condizioni critiche all'ospedale. Il destino ha colpito questa coppia appena alla fine di luglio, quando Graziella aveva pronunciato il fatidico sia il suo amato Francesco. Dopo la cerimonia noziale, la coppia aveva intrapreso un viaggio di nozze che li aveva portati in giro per il mondo, prima di fare ritorno in Italia solo da poco tempo. L'incidente ha coinvolto la loro motocicletta e una Fiat 500, alla guida della quale c'era una giovane proveniente da San Giorgio Aliri. Purtroppo, poco dopo l'impatto, Graziella ha perso la vita. Attualmente, i carabinieri della compagnia di Ponte Corvo stanno conducendo un'indagine per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. La comunità è profondamente scossa da questa tragedia, e le nostre preghiere sono con la famiglia e gli amici dei giovani sposi in questo momento così difficile. Lascia la tua opinione nei commenti, iscriviti e metti un bel mi piace al video, per noi è importante, grazie, ci vediamo nel prossimo video.